2 a 1 italia venezuela 2 a 1 una partita che ho guardato giusto così spizzichi e bocconi leggevo un po di notizie mentre ogni tanto dava un occhio alla partita una partita che lascia il tempo che trova non vedo queste grandi indicazioni a parte che io trovo sia un'assurdità so basso imbarcarsi una trasferta oltre l'oceano per due partite che francamente contano meno di zero una partita complicata che forse non meritavamo di vincere una difesa a dir poco imbarazzante con il flagello del secolo il flagello calcistico del secolo che è la costruzione dal basso sì perché la costruzione dal basso il flagello del secolo errori da dilettanti è un calcio da me non piace questo calcio a me non piace forse sono io che sono antiquato non lo so gol stupidi 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 presi così sia il nostro il nostro primo gol che loro che loro pari si è sofferto in difesa molti errori male buongiorno devo dire i migliori ovviamente re teghi due tiri due gol ovviamente e negli altri giorginio quando è entrato barello ha dato un pochino di verve devo dire ha fatto vedere discrete cose zaniolo ma il migliore secondo me è stato udoghi nettamente udoghi per me è stato nettamente il migliore stasera molto propositivo molto efficace poi veniamo alla prova dei nostri discreto cambiaso discreta partita di cambiaso locatelli più o meno in formato juve e chiesa altrettanto si fatto quel bel tiro al giro ma francamente ha provato un paio di spunti nel primo tempo poi è scomparso dalla partita ma non è che gli altri abbiano brillato eh attenzione c'è anche dire questo venezuela la squadra che ha fatto dell'agonismo la sua arma in questa partita il venezuela che comunque è messa abbastanza bene il girone sudamericano per qualificarsi ai mondiali ricordiamo che nell'ultima edizione i tornei giovanili ha fatto una buona figura mi sa che una volta ha giocato una finale persa con gli inglesi eh quindi non è una squadra da sottovalutare non è più la squadra classica squadra materasso del sudamerica anche se è l'unica ancora non essersi ancora non essersi ancora qualificata mai per un mondiale le altre meno mai sono riuscite tutte compresa la bolivia che adesso sembra la squadra materasso del calcio sudamericano alcune buone individualità venezuela rondon su tutti rondon attaccante che ha giocato prevalentemente in russia ma anche in spagna nel malaga ai tempi dello sceico tornata di moda sarà perché ti amo una canzone del 1981 il che ti dice la qualità della musica attuale comunque che indicazioni deve trarre spalletti da questa prima partita che deve giocare col suo modulo col suo 4-3 classico che non si può prescindere da uomini come Donnarumma Barella Bastoni Darmiani è che in avanti non ci fossero i techi saremmo davvero messi abbastanza male immobile oramai ha preso il viale del tramonte difficilmente penso che spalletti lo ripescherà qualcosa di buono si vede sugli esterni con Zagagni in parte con Chiesa Zaniolo Berardi non ce l'abbiamo più oramai Traspadori Scamacca comunque non sono dei top comunque sono delle alternative prossima partita con l'Equador avversario più difficile di questi l'Equador è una buona squadra è una squadra che sa stare bene in campo è una squadra che sicuramente non commetterà le minchiate commesse dai venezuelani si giocava a New York ci abbiamo già giocato due volte con l'Equador me ne col Venezuela era un inedito una vittoria e un pareggio un pareggio in amichevole l'Italia di Lippi molto rimaneggiata sempre in America e la vittoria ai mondiali di Giappone Corri a 2 a 0 l'unica vittoria che ottenemmo con l'ambizione dei mondiali due gol di Vieri e all'Equador del famoso De La Cruz temutissimo da Trapattoni ma che a conti fatti si dimostra un terzino anche abbastanza mediocre già ma per l'Europa io come siamo messi già l'ago della bilancia del girone sarà la Croazia perché la Croazia con Spagna e Italia Albania è capace di vincerti il girone così come è capace di arrivarti ultima la Croazia certo è che non è sta squadra irresistibile questa nazionale che deve partire da alcuni punti fermi signori Giorginio è il centrocampo ancora indispensabile per questa squadra oramai Verratti non c'è più Giorginio è indispensabile per questa squadra non c'è un centrocampista che possa fare quel lavoro ci sarebbe fagioli in prospettiva ma non è cacchio di quest'anno cambia sono fatto discretamente medecchies e locatelli confermano grossomodo il loro momento un po' così ne verranno fuori il problema è che se non ci sono loro qual è l'alternativa fermo restato nel primo tempo ha giocato ancora a Buonaventura cioè non siamo messi benissimo anche se sono convinto che il Girono è uno più e lo passiamo perché delle volte con l'avversario che sulla carta sono meglio di noi delle volte riusciamo a ottenere delle prestazioni ma mi sento già di dire che rispetto a tre anni fa considererei un grande successo i quarti di finale lo considererei un grande successo i quarti di finale con questa squadra qui molta povertà non abbiamo una punta vera escluso Re Teghi e Re Teghi non ha mai giocato in una competizione europea è un attaccante che partecipa poco alla manovra un attaccante che vede la porta però il problema è come fare a arrivare i palloni come fare a arrivare i palloni questo è il problema anche se comunque c'è Barel c'era una volta l'Italia signori sarà dura a giugno sarà molto dura ribadisco e non è per nulla scontato che riesco a qualificarti anche ai mondiali stavolta non è per nulla scontato purtroppo i talenti autoctoni ce n'è pochi e nulli così ci tocca giocare con tre naturalizzati anzi due perché Udoggi mi sa che è nata in Italia non è un bel momento per il nostro calcio non è un bel momento forse a livello di club perché c'è qualche straniero valido ma in conclusione una postilla ho sentito durante il primo tempo una persona un commentatore in particolare dire che Spalletti non esistono più ruoli Spalletti deve trovare gli uomini giusti avete capito chi era il commentatore in studio no? avete capito chi era il capostipite di quelli che dicono che i giocatori devono giocare dal proprio ruolo oggi ha detto l'esatto contrario deve trovare gli uomini giusti in altro caso lui dice l'esatto contrario che non sono gli uomini che contano ma contano le nature in altro caso lui dice l'esatto contrario capisco che la nazionale non è il club e che Spalletti è un allenatore da club anche se molto bravo però questo giusto per dire dei fenomeni da baraccone che raccontano il calcio di voci esaltarsi per la costruzione dal basso per vedere ste cagate poi qua il bello è che quando una volta addirittura gli senti dire che bisogna dare la palla all'uomo marcato perché deve avere personalità perché gli altri nel frattempo si smarcano un po' quello che ha fatto Donnarumma risultato? abbiamo preso gol questo per dire che se non c'hai la gente capace di fare certe cose giustamente come leggevo fra i commenti l'unica squadra in grado che fa una buona costruzione dal basso e che difficilmente sbaglia è l'Inter e quando sbaglia lo fa con Sommer più che altro è l'Inter le altre francamente Dio ce ne scampi calcio moderno signori un calcio che a meno piace sempre meno un calcio fatto di molti dogmi e poca sostanza è una nazionale che lo specchio fedele di come è ridotto il nostro calcio non lo so iscrivetevi al canale dai buonanotte